amici benvenuti tutti quanti voi a questa nuova puntata di draconius come forse di voi qualcuno di voi saprà io sono in febbrile attesa della patch next stop di bus simulator 21 intanto che aspettiamo mi diverto a fare un po di sano driving in questa simulazione quindi adesso vi lascio la mia sigla e dopo la sigla cominceremo a guidare quindi rimanete con me ragazzi mi raccomando a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa è la nostra mappa. Andremo qui, poi qui e infine qui. Va bene. Applica modifiche e facciamo questa. Poi nella linea 1, anzi la linea 2, guida ora. Eccoci qui. Sì, grazie. Sì, grazie a tutti. Dai, levati dai piedi. Eh, bravo che si è tolto il vento velocemente. Questa è anche abbastanza piacevole. Dai, date qui da mossa che qui abbiamo da fare. Allora, should we go to the movies tonight? Oh, yeah? Drone swarm, you say? I'll check it out. Sounds interesting. Now, I'm afraid I'm getting sick. La prima ferrona armata e quella è l'agriculture center. Hmm. 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 I hope it's sunny tomorrow. I'd like to go shopping and visit the cafe. Allora, should I buy a ticket? Corny Street, Agriculture Center. Qualcuno deve comprare un biglietto? Va bene. Next stop, Steinach West. Grazie a tutti. Muoviti. Bellissimo questa parte della città. Hanno già prenotato la fermata, va bene. Ma devo pure togliere... Eppure o me... Allora, biglietto... Allora, cosa per disabile? Eccolo qua. Aspetta, eh? Eccolo qua. Dunque, mi mi assaggiro che il biglietto sia anziani settimanale. Tanca un euro. Eccolo a te. Beh, che succede? Boh. Eccolo. Ah, maldette buone. Ah, maldette buone. Ah, maldette buone. Biglietto. E tu che vuoi un ordinario, corsa singola, stampamelo, 7 e 80, 1, 5, 60, 70 e 80. Ordinario, settimanale, stampa 2 euro. Anziani, giornaliero, stampa 4, 50 e 60. Devo svegliere un passeggero a capolinea. Next stop, Ricever Grange. Hello. Allora. Allora. Allora, un biglietto. No, aspetta. Ok. Dunque, un ordinario, settimanale, stampa 2 euro. Ecco a te. Un ordinario, giornaliero, 3, 1 euro e 40. mi dispiace ma io devo andare. Ok. Che diavolo è successo? Ok. Ok. Quisette. Ah. Nade a tinimess. Raza tinimess. Oh, I was out way too late at the old sawmill. I hate winter as fashion. My wife thinks we watch it all the time. I need a few tickets, please. Okay, let's see. Ordinary, single, two, and stamp. Okay. Thank you. Allora, anziani, single, three, four, 50, 60. May I have a ticket, please? Ordinary, journalier, stamp. Three, 50, 60, 70, 80. Are you still the same? I don't know. Oh, I didn't want to have the same. This is the last stop. Please leave the bus. ecco qua c'era un passeggero e c'era uno che si era addormentato eccolo qua va bene facciamo ancora questo giro va Alexa accenni la luce e luce fu e luce fu e luce fu ho fatto pure una cittinata ho fatto pure una cittinata andiamo vecchiecci e 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 che ha fatto quella gente la sotto e 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 c e e e e Grazie a tutti. 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 8 euro e 20 euro, ecco qua. Grazie a tutti. E lo so che sto lentissimo, ma comunque non mi fermo prima di 5 minuti. Oh! Vabbè a fermarsi, ma non bisogna addormentarsi. Oh! Va bene. Grazie a tutti. Oh! Oh! Attendete. Oh! Oh! Sto pure piovendo. Oh! 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 Comodo! Oh! 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 oppure stendere la rampa a posta a posta adate che blocca la rampa hey where you going steinex chapel steinex chapel ecco qua devo ricordarmi che a queste rampe devo fare attenzione attenzione io ho capito biglietto eh ordinario forse singola stampa sette euro e ottanta ordinario forse singola stampa no questo è malattro giusto questo è un altro biglietto vuole ordinario biglietto giornaliero stampa no 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 questo è malattro giusto zitto ma è un passaggio che si è pure addormentato il capoline biglietto 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 oh 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 Un'ultima fermata. 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 Un'ultima fermata.